Ciao bimbi! Oggi è il 17 marzo, è una giornata importante per noi italiani perché oggi si festeggia l'unità dell'Italia, del nostro paese, dell'Italia. Voi sapete che colori ha la bandiera dell'Italia? Secondo me sì, soprattutto i bambini a cui piace il calcio. Pensavamo proprio di farvi fare una bandiera. Allora, guardate un po'. Dovete prendere un foglio bianco, noi abbiamo preso questo più grande, ma va bene anche uno più piccolo, il semplice foglio a quattro. Poi, fatevi aiutare se non riuscite, dividete il foglio in tre parti, guardate un po'. Ecco, così. E queste tre parti dovranno essere colorate, dei colori della bandiera dell'Italia. Chissà che lo sanno chi sono i colori? Le dico io allora. Il primo colore è il verde, poi il bianco e infine il rosso. Qui, i colori della bandiera italiana sono verde, bianco e rosso. Adesso potete colorare la vostra bandiera e guardate come abbiamo fatto per mostrarvela. E che cosa manca alla bandiera? Scusate. Così. Che cosa manca alla bandiera per stare su per tenerla? Perché è scomodo tenerla così. In un po', possiamo metterci la nostra asta. Noi abbiamo pensato a un pezzettino, a una bacchetta di legno, oppure una cannuccia. Va bene qualsiasi cosa voi abbiate in casa. In un po', abbiamo una cannuccia. Questo è fatto. Perfetto. Guardate un po' la vostra bandiera, gigante, rispetto alla bacchetta. Voi sarete più bravi con le dimensioni a casa. Ciao bimbi, ciao e buona festa della l'Unità d'Italia a tutti. Ciao ciao.